In questa puntata ti voglio raccontare di un rilevo fotogrammetrico che abbiamo fatto per cercare di capire che caratteristiche geomorfologiche di una roccia si possono estrarre da una nuvola di punti tridimensionale. Questo è l'episodio numero 78 del podcast di 3Dmetrica. Venerdì 15 novembre 2019 sono stato invitato come relatore al primo congresso nazionale dell'associazione Master. Nella puntata 73 di questo podcast ho intervistato Santo Mineo che fa parte proprio dell'associazione Master ed è uno degli organizzatori di questo congresso nazionale. Durante questo intervento ho parlato della fotogrammetria applicata alla meccanica delle rocce e ho portato il caso di studio di un lavoro che ho fatto, che abbiamo fatto, perché bisogna parlare al plurale in questo caso, cercando di capire quali fossero le caratteristiche geomorfologiche di una roccia che si possono estrarre da un modello tridimensionale generato con la fotogrammetria, da una nuvola di punti e da un modello tridimensionale da fotogrammetria. Nella puntata di oggi ti voglio parlare proprio di questo caso e quello che farò è riportare, riproporti, rifare con qualche modifica lo speech, l'intervento che ho fatto durante il congresso dell'associazione nazionale Master. Prima però ci tengo tantissimo a ringraziare Santo Mineo e l'associazione nazionale Master nella persona, nella figura di Stefano Bufarini per l'accoglienza, per l'ospitalità che mi hanno dimostrato durante il congresso e anche per l'aiuto che mi hanno dato. Sì perché, ti racconto un piccolo aneddoto, ho provato in tutti i modi, in senso chiaramente ironico, a non essere presente durante la giornata, durante le giornate del congresso, perché qualche giorno prima, in realtà una decina di giorni prima, mi sono fratturato una costola pensando bene di andare a fare surf durante una delle mareggiate, delle varie allerte meteo che ci sono state qua in Liguria, sono caduto in acqua, è una caduta abbastanza banale, soltanto che l'onda è rimasta dietro, la tavola è rimasta dietro, l'onda l'ha presa, me l'ha scaraventata sulla schiena e mi sono rotto, in maniera non scomposta, una costola. Per cui non ero proprio al massimo della mia forma, ho avvisato i ragazzi dell'associazione master di questa cosa, all'inizio pensavo addirittura di non riuscire a farcela, poi tramite un aiuto mio padre mi ha accompagnato a Parma guidando perché per me era impossibile guidare in quei giorni, sono riuscito ad essere ad uno dei due giorni, avrei voluto fare tutti e due giorni del congresso, e Santo e Santo Mineo in occasione di quella giornata che lui presiedeva in qualità di chairman degli speech, mi ha dato anche la possibilità di anticipare il mio speech che era previsto come ultimo speech della giornata, dandomi l'opzione di farlo un po' prima, quindi poco dopo pranzo, e rientrare a casa non proprio alla fine, fine della giornata. Per cui grazie tantissimo della disponibilità, delle presentazioni, degli incontri che ci sono stati, è sempre bellissimo incontrarsi di persona, e potersi scambiare opinioni, pareri, guardandosi negli occhi e stringendosi la mano. È bello farlo attraverso anche messaggi, comunicazioni asincrone, telegram, linkedin, social network, email, però credo che il valore aggiunto della relazione quando sei di fronte a una persona sia enorme. Comunque, non ti rubo altro tempo, ti lascio. No, non è che ti lascio perché non ci sarà uno stacchetto dove si parla con qualcun altro, sarò sempre io che parlo in questa puntata, però chiudo qua l'introduzione, ti ricordo che il mio quartiere generale online lo trovi all'indirizzo web www.3dimetrica.it Un ammasso roccioso è un'entità particolarmente eterogenea, molto complessa, è caratterizzato da discontinuità, da fratture, che sono diverse a seconda della roccia di cui stiamo parlando, ma sono diverse anche a seconda della stessa roccia messa in posti diversi. Le proprietà geomorfologiche di un ammasso roccioso sono le discontinuità, sono i piani di discontinuità che entrano all'interno della roccia. Noi ne vediamo soltanto una parte, che è quella esterna, quella della superficie, ma che dentro possono andare avanti per un bel po', possono essere dei piani di discontinuità, possono essere degli elementi di debolezza dell'intero ammasso roccioso. Una caratteristica geomorfologica di questi piani sono il loro orientamento, la loro immersione, cioè come sono disposti rispetto a dei riferimenti in termini di angoli, quindi sono delle misure angolari di questi piani. Anche la distanza tra questi piani di discontinuità è un dato interessante, un dato importante per capire quanto è solido o com'è costituito un ammasso roccioso. Io non sono un geologo, ho fatto meccanica delle rocce all'università e in tutta sincerità ti dico nell'intimità di questo podcast che è stato un esame che non ho molto amato, ma qua c'era un po' la complicità del professore che non ce l'ha fatto molto amare. L'ho un po' studiata, tante cose me ne sono dimenticate, le ho un po' riprese quando mi occupavo di dissesto idrogeologico e di progettazione di interventi di consolidamento delle pareti rocciose, ma mi mancano tante basi e tanta cultura e tanto approfondimento in questo campo, per cui non entro troppo nel dettaglio perché il rischio è quello che dica delle cose non proprio esatte e non vorrei essere fuorviante in questo senso. Comunque, le caratteristiche geomorfologiche sono caratteristiche che sono degli elementi, delle informazioni geometriche che vengono interrogate, che vengono tirate fuori da un ammasso roccioso e che servono per caratterizzarlo e capire se quell'ammasso roccioso ha delle criticità, è potenzialmente instabile e quindi può mettere a rischio quello che sta sotto, tipicamente quell'ammasso roccioso, ma anche quello che sta sopra, perché mi è capitato di fare dei rilievi in ammassi rocciosi che erano sotto un asse ferroviario, è chiaro che se quell'ammasso roccioso ha un cedimento, poi si porta dietro anche o comunque può danneggiare la parte che ci sta sopra, in quel caso la geometria, ma anche misurare, prendere delle misure su un ammasso roccioso può essere un'informazione interessante, un'informazione è una cosa che si fa per capire quali sono i volumi movimentabili, quali sono le possibili entità che si possono staccare da una roccia e cadere, cadere verso valle. Insomma, tutte queste caratteristiche geometriche sono dei dati molto importanti che il geologo in campo rileva quando va a fare delle indagini in campo e quando va a studiare la roccia, l'ammasso roccioso, di cui deve tirare fuori informazioni da dare poi a chi eventualmente farà una progettazione o a chi dovrà fare delle decisioni in merito a fare o non fare una progettazione e o gli interventi. Ora, ti ho anticipato che io non sono un geologo e adesso spero di non inimicarmi nessuno. Ho fatto geologia, ho fatto anche geologia all'università e mi ricordo che ho fatto anche dei rilievi geologici in campo, molto semplici, per quello che poteva essere un rilievo geologico fatto nell'ambito di un corso universitario, tra l'altro geologia, io l'ho fatto al terzo anno, però mi ricordo che gli strumenti in mano al geologo che va in campo per rilevare le caratteristiche geomorfologiche, stavo parlando di caratteristiche geomorfologiche, lascio un po' da parte la parte geomeccanica perché non è oggetto di questo podcast, né è stato oggetto dello speech, né è stato oggetto dello studio che abbiamo condotto. Comunque gli strumenti del geologo non sono così complessi. C'è la bussola, c'è il martello, il geologo in campo va con un tacquino, una macchina fotografica, delle bindelle metriche, dei metri, degli strumenti per misurare delle distanze. Poi sì, se devi misurare una resistenza hanno anche uno sclerometro, un martello di Schmidt, però per quanto riguarda un'analisi geomeccanica gli strumenti non sono così sofisticati. Sì, in alcuni casi può essere necessaria una stazione totale per prendere delle misure in zone che non sono accessibili, però se lasciamo un attimo da parte lo strumento topografico, il geologo che va in campo ha la sua strumentazione nello zaino. Non stiamo parlando di milioni, o meglio, migliaia di euro di strumentazione. La difficoltà, a mio avviso, quello che ho potuto incontrare durante il mio lavoro, sia durante la mia esperienza di progettista, che adesso quando faccio rilievi di questo tipo, è che una delle difficoltà maggiori è l'accesso alle aree. Spesso un ammasso roccioso, una parete che deve essere consolidata, non è per niente facile da indagare. Spesso le aree su cui devi andare a guardare, devi andare a fare attenzione, gli elementi aggettanti, sono elementi che li puoi raggiungere soltanto se ti imbraghi e se fai un accesso in parete tramite una calata, quindi con attrezzatura alpinistica. Sono cose che non sono per niente banali. Non so se ti è mai capitato di arrampicare. Io ogni tanto arrampico, poco in realtà, non è per niente banale arrampicare. Quindi arrampicare, e in teoria le calate si fanno in maniera discendente, con tutta l'attrezzatura e poi rimanere fermo in parete, fare tutte le tue valutazioni, le tue analisi e tutti i tuoi rilievi, ti assicuro che non è per niente banale. Ed è anche una cosa abbastanza lenta da fare. Ammettendo anche che la tua parete rocciosa, il tuo ammasso, non debbano essere indagati tramite un accesso in corda, se presumibilmente ci sono delle tendenze al crollo, o comunque se sei andato lì tu geologo perché devi rilevare una situazione instabile, beh, quella situazione probabilmente è instabile. E quindi è probabile che tu sia esposto a un fattore di rischio che non è trascurabile. Comunque è sicuramente maggiore rispetto a un altro tipo di rilievo, un altro tipo di accesso in situazioni più sicure. E poi c'è anche l'aspetto legato al tempo. Ti ho già detto che una calata in corda richiede un po' di tempo, ma anche l'accesso a una parete tramite magari anche dei sentieri, che non sono esattamente dei sentieri belli ciottolati, sottolati, pavimentati con la recensione, spesso bisogna anche attrezzarsi con degli imbraghi per fare delle ferrate. Insomma, non è per niente banale arrivare alle zone che vuoi rilevare, quindi ci puoi mettere tempo. E in ultima, un ultimo aspetto, è che tutti questi fattori, quindi due fattori in realtà, la difficoltà e la richiesta di tempo di questo tipo di rilevo porta necessariamente ad avere un dato, che è un dato localizzato, un dato puntuale. sarebbe impensabile rilevare tutte le caratteristiche geomorfologiche di una parete rocciosa, magari anche abbastanza estesa, con una maglia regolare di punti di campionamento che sono distanti 50 cm, un metro uno dall'altro. Sono tantissimi dati e richiedono tantissimo tempo. Non è che non si possa fare, si può fare, però chiaramente uno studio di questo tipo, per il fatto che richiede tanto tempo, poi richiede anche tanti soldi. Quindi gli aspetti, le grandi difficoltà del rilevo geomeccanico sono operative, sono legate all'accesso dei dati. Poi qui mi fermo, perché poi ci sono tutta un'altra serie di aspetti che sono legati all'esperienza del rilevatore, e questo è un altro campo che non voglio indagare, in cui non voglio entrare in questa puntata. Però è oggettivo che il rilievo geomeccanico e geomorfologico abbia delle difficoltà proprio nel rilievo, nell'accesso fisico all'area che tu vuoi rilevare. E allora, nello studio che abbiamo fatto, di cui adesso poi ti parlo e ti dispiego perché sto parlando a plurale e che cosa è successo, ci siamo interrogati sul fatto che si potessero utilizzare dei dati tridimensionali rilevati in modo che non ci fosse la necessità di andare fisicamente a toccare la parete rocciosa, quindi si potessero estrarre e generare delle nuvole di punti e da queste nuvole di punti si potessero ricavare le stesse caratteristiche, le stesse informazioni geomorfologiche che un geologo ricaverebbe in campo andando fisicamente a toccare la parete rocciosa, l'ammasso roccioso con i suoi strumenti. E quindi quello che abbiamo fatto è fare un rilievo fotogrammetrico, più rilievi fotogrammetrici, a diversi gradi di approfondimento e di dettaglio per estrarre, per tirare fuori dei modelli tridimensionali da cui poi abbiamo estratto, abbiamo tirato fuori, abbiamo campionato dei dati geomorfologici e li abbiamo confrontati con dei dati effettivamente rilevati in campo durante una campagna di rilievi. Ho parlato in plurale perché questo lavoro non l'ho fatto da solo, è stato un bel lavoro di squadra e è stato un lavoro fatto a braccetto con l'Università Politecnico di Torino, in particolare con il DSEG, il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. La professoressa di riferimento è stata la professoressa Maria Rita Migliazza e questo lavoro è confluito, questa attività di rilievo fotogrammetrico e di indagine dei dati trattati ed elaborati è confluito poi in un lavoro di tesi, una tesi magistrale in ingegneria geotecnica che è stata portata avanti, è stato seguito tutto il lavoro in maniera estremamente competente con grandissima passione dall'ingegnere Adriana Zingarelli. Quindi tutte queste attività le abbiamo fatte finalizzate a questo tipo di studio e questo studio poi è confluito nel suo lavoro di tesi. È stato un lavoro molto molto interessante che ha richiesto un bel po' di tempo. I primi rilievi di campo li abbiamo fatti nel novembre del ottobre, fino a ottobre, inizio novembre del 2018, quindi un poco più di un anno fa. Tutto il lavoro di elaborazione dei dati è iniziato nella fine del 2018 per concludersi poi intorno ai primi mesi del 2019 e Adriana si è laureata ad aprile del 2019, aprile di quest'anno. È stato un lavoro molto lungo, molto interessante che ha dato dei risultati anche interessanti per quello che sono le potenzialità delle nuvole di punti e dei dati tridimensionali e le informazioni che si possono estrarre da questi dati nello specifico dell'aspetto geomorfologico e geomeccanico. In realtà solo geomorfologico perché abbiamo estratto da questi dati tridimensionali delle informazioni di angoli e distanze da cui poi sono derivate anche misure di superficie e di volumi. Il nostro campo giochi, il nostro parco giochi, l'area di studio, quello che abbiamo scelto per fare questa analisi è stata una cava di marmo. Se hai seguito delle altre puntate di questo podcast sai che io, o comunque se hai letto qualche articolo del blog sai che io lavoro, mi capita di lavorare spesso nelle cave di marmo, sono abbastanza vicino al bacino marmifero delle Alpi Apuane che è uno dei più importanti bacini marmiferi d'Italia e è proprio nelle Alpi Apuane che siamo andati a lavorare in una cava in una cava di proprietà della società Enro SPA non è una cava diciamo non è una di quelle cave che guardano il mare le Alpi Apuane sono delle alpi molto particolari sono delle montagne molto particolari che in tanti confondono con gli appennini ma che con gli appennini non hanno molto a che fare da un punto di vista della caratteristica orografica e morfologica si chiamano Alpi non a caso sono molto dritte sono veramente in piedi i versanti sono delle montagne più giovani rispetto agli appennini la cava che abbiamo utilizzato in cui abbiamo lavorato guarda il versante della Garfagnana è in provincia di Lucca nel comune di Seravezza è una cava che si chiama Cava Piastrone e come la maggior parte delle cave delle Alpi Apuane proprio perché il territorio delle Alpi Apuane è in piedi, sta dritto anche le cave si sviluppano molto in verticale è una cava che ha una distanza un delta, delta z quindi una differenza di quota tra punto minimo e punto massimo di oltre 100 metri è una cava a pozzo dove c'è un pozzo centrale che in questo momento non era coltivato stavano coltivando altre aree con una viabilità sempre molto tra virgolette mobile costruita lungo Ravaneti che sono i depositi di scarti di lavorazione lunghi versanti insomma il bacino delle Alpi Apuane offre sempre degli scenari mozzafiato e delle ottime opportunità di vedere cose davvero interessanti sotto un punto di vista nello specifico rilievo geomorfologico rilievo fotogrammetrico ma anche da un punto di vista anche del colpo d'occhio che ti danno questi ambienti questi scenari ora ne abbiamo già parlato però vorrei spendere qualche parola su come abbiamo condotto il rilievo fotogrammetrico il rilievo aerofotogrammetrico in realtà aerofotogrammetrico e fotogrammetrico quello che ci siamo il percorso che abbiamo cercato di fare e le tappe che ci siamo dati è quello di provare a lavorare su diversi livelli di approfondimento quindi abbiamo fatto delle acquisizioni fotogrammetriche secondo dei livelli degli approfondimenti o meglio dei livelli di approfondimento sempre più spinto questo cosa vuol dire? vuol dire che abbiamo fondamentalmente fotografato via via a distanza sempre più ravvicinata e a un certo punto per avere un altro livello di approfondimento un altro dettaglio un dettaglio ancora più spinto abbiamo cambiato camera quindi siamo passati a un sensore più grande e quello che è stato fatto è stato fatto e quello che è stato fatto è stato scusa il gioco di parole due rilievi aerofotogrammetrici da drone e due rilievi fotogrammetrici con camera terrestre in realtà di questi rilievi cioè di questi quattro rilievi ne abbiamo usati tre per questo lavoro cioè per tirare fuori le caratteristiche geomorfologiche dalle nuvole di punti e dai modelli tridimensionali della roccia però abbiamo tenuto un primo e un primo modello quello più generale per definire tutta la topografia l'orografia e la morfologia di tutta la cava quindi abbiamo fatto un volo un rilievo di grande un rilievo a una distanza di presa maggiore che non è molto utile per definire le caratteristiche geomorfologiche ma è servito per estrarre il modello tridimensionale di tutta la cava e estrarre la topografia della cava intera e poi abbiamo trovato una parete rocciosa che fosse abbastanza comoda comoda perché è stata comoda per fare dei rilievi fotogrammetrici ma è stata comoda anche perché avevamo necessità di confrontare i rilievi fotogrammetrici con dei rilievi di campo e quella parete si prestava molto bene perché aveva una strada seppur una strada di cava di accesso abbastanza comoda che ci portava tutti quanti in sicurezza a poter rilevare la parete rocciosa con le classiche tecniche geologiche sarebbe stato impossibile pensare di fare un confronto solido robusto utilizzando soltanto il rilievo fotogrammetrico senza aver niente con cui confrontarlo quindi in questa parete abbiamo fatto tre approfondimenti fotogrammetrici uno di nuovo da drone con aerofotogrammetria scattando foto più ravvicinate circa 15 metri di distanza e poi siamo passati a una camera terrestre dove abbiamo cambiato quindi il sensore abbiamo messo un sensore grande un sensore full frame 35 mm e abbiamo fatto due diverse prese una presa con un'ottica da 24 mm a 5 metri di distanza montando la camera su un'asta in modo tale che potesse raggiungere diverse altezze e un'altra presa con un sensore da 35 sempre il solito sensore da 35 mm con un'ottica da 35 mm lunghezza focale 35 mm con una distanza di presa di circa 3 metri in questo caso abbiamo cambiato il GSD in tutti questi tre rilievi quello che è cambiato è stato il GSD il GSD è il ground sampling distance ne avevo parlato in una puntata precedente di questo podcast è forse il fattore più rilevante nella fotogrammetria e ti dice qual è il dettaglio delle immagini che scatti durante una presa fotogrammetrica il GSD è funzione della distanza di presa se riduci la distanza di presa si abbassa il valore del GSD e più è basso il valore del GSD e maggiore è il dettaglio delle immagini è funzione della dimensione del sensore a un sensore più grande corrisponde un GSD più piccolo quindi passando da un sensore da un pollice che è quello che abbiamo utilizzato nel drone che abbiamo usato per fare la fotogrammetria a un sensore da 35 mm abbiamo ingrandito anche di parecchio la dimensione del sensore e il GSD è calato e poi a funzione anche della lunghezza focale dell'obiettivo quindi passando da un obiettivo grande angolare 24 mm a uno un po' più corto 35 mm abbiamo ulteriormente spinto in basso il GSD cercando di tirare fuori ed è stato così in effetti un dettaglio ancora più spinto nelle immagini che abbiamo preso questi sono stati i tre livelli di approfondimento da tutti questi tre modelli tridimensionali da tutti questi tre prese fotogrammetriche abbiamo estratto tre modelli tridimensionali che abbiamo poi elaborato abbiamo trattato e abbiamo studiato per tirare fuori le informazioni geomorfologiche ora siccome la parte dello studio quindi dell'estrazione dei dati non l'ho fatta io e non avevo neanche le competenze per farlo e neanche mi competeva questo aspetto l'ha fatto nello specifico Adriana che si è smazzata davvero un sacco di dati e ha fatto da trade union tra il rilievo di campo il rilievo fotogrammetrico e l'estrazione delle informazioni dei modelli tridimensionali io ti voglio parlare brevemente di quello che è stato il rilievo fotogrammetrico e aereo fotogrammetrico in campo anche se ne ho raccontato in altre parti ne ho già parlato in altre puntate su come si fa un rilievo fotogrammetrico te lo ripeto giusto per dirti quali sono stati i passi che abbiamo fatto durante questo lavoro la prima cosa che si fa in questi casi è mettere a terra i target ad alta visibilità farò una puntata una delle prossime puntate del podcast adesso non so bene ancora quale se la prossima o se tra qualche altra puntata farò una puntata sui target ad alta visibilità su quali utilizzo su perché utilizzo un tipo rispetto a un altro su che colori e che motivi utilizzo però la prima cosa che abbiamo fatto in questo ambito che è un ambito assolutamente in parte antropizzato ma non ha degli elementi a terra ben riconoscibili come potrebbero essere le linee della segnaletica orizzontale di un parcheggio abbiamo dovuto mettere degli elementi a terra che fossero ben visibili che fossero ben individuabili nelle immagini perché su quelli abbiamo messo abbiamo poi su quelli li abbiamo misurati con gli strumenti topografici e sono stati utilizzati per georeferenziare orientare e sistemare tutti i modelli tridimensionali che abbiamo elaborato primo step sono i target ad alta visibilità il secondo step è il loro rilievo topografico in un caso come questo in caso di una cava abbiamo fatto un rilievo topografico classico integrato quindi abbiamo utilizzato il sistema GNSS e la stazione totale con il rilievo cederimetrico nelle aree di cava non è banale avere un segnale GSM solido per cui per evitare di dover aspettare molto o di non avere la possibilità di fissare la correzione da una base fissa a cui ci si collega in maniera con una trasmissione satellitare in modalità NRTK abbiamo scelto di utilizzare due antenne satellitari di cui una funzionava da base e l'altra era il rover che collegato via radio alla base dava sempre l'informazione sulla coordinata in modalità RTK però non appoggiato alle basi fisse però ci sono stati tanti punti che non era possibile rilevare perché erano inaccessibili quindi non era possibile andare con la palina dove c'era il nostro rover fisicamente a abbattere i target quindi abbiamo usato una stazione totale e appoggiandoci orientandola a punti noti che abbiamo battuto precedentemente con il ricevitore satellitare abbiamo lanciato delle misure verso la parete rocciosa che era molto alta c'erano delle belle pareti totalmente inaccessibili a meno di utilizzare corde e imbraghi e lì abbiamo cercato dei punti che potessero essere ritrovati nelle immagini e li abbiamo misurati con la stazione totale utilizzandola in modalità senza prisma quindi utilizzando il raggio laser e calcolando la distanza tra l'emissione e il ritorno la stazione totale riesce a calcolare le coordinate di tutta una serie di punti sulla parete rocciosa una volta prese le misure prese le coordinate dei punti che sono utilizzati poi per l'elaborazione fotogrammetrica abbiamo volato quindi abbiamo volato abbiamo fatto la presa fotografica in un caso abbiamo volato quindi con il drone abbiamo scattato fotografie prima da grande distanza 70 metri per definire tutta la topografia generale poi abbiamo fatto un rilevo di maggior dettaglio 15 metri per fare il primo dei tre approfondimenti e poi finita la parte di volo siamo passati alla parte di rilevo terrestre con la camera terrestre montata su un'asta con diversi due obiettivi e due distanze di presa diverse una volta ricavati tutti questi dati siamo rientrati in ufficio abbiamo elaborato tutto quanto all'interno dei classici software con algoritmi structure from motion abbiamo messo dentro le misure abbiamo messo dentro le fotografie e per ciascuno di questi tre modelli abbiamo elaborato per ciascuno di queste tre prese scusa abbiamo elaborato quattro in realtà perché abbiamo fatto anche il modello generale abbiamo elaborato quattro modelli tridimensionali i modelli tridimensionali i dati che abbiamo tirato fuori in output sono state le nuvole di punti e dalle nuvole di punti abbiamo elaborato anche le mesh quindi superfici formate da elementi triangolari di cui le nuvole i punti sono vertici di questi triangoli questa è la parte fotogrammetrica di rilievo fotogrammetrico ed è finita qua in realtà è stata molto più complessa di come te l'ho raccontata ci sono state è durata quattro giorni non è stata per niente banale abbiamo patito un sacco di freddo perché questa cava è esposta a nord e penso che abbia ricevuto il sole in quei giorni tra l'altro giorni abbastanza corti forse per un paio d'ore insomma non è stato per niente banale anche il rilievo di campo che è stato fatto da altri ragazzi che erano in campo e con noi non è stato non è stato semplice però alla fine il dato è stato portato a casa da questi dati abbiamo elaborato i modelli tridimensionali adesso è intervenuta poi la parte di analisi delle informazioni dei modelli tridimensionali per capire e per il confronto con i dati rilevati in campo su questa parte qua io vado molto molto veloce perché è una parte che non ho fatto direttamente ho seguito Adriana mentre portava avanti il suo lavoro però non è stato poi la parte che mi ha coinvolto principalmente è stata quella del rilievo fotogrammetrico che ti ho appena descritto comunque giusto per dirti quello che è stato fatto perché secondo me è stato molto interessante sono stati presi due software sono stati analizzati i dati tridimensionali con questi due software che hanno lavorato in maniera anche diversa uno dall'altro e questa è la parte secondo me molto interessante il primo software che è stato utilizzato ne ho parlato tantissimo una volta in questa puntata del podcast ma diverse volte nel mio canale YouTube dove ho portato un po' di casi di video e di tutorial per l'elaborazione delle nuvole di punti il primo software è stato Cloud Compare Cloud Compare è un software di elaborazione di gestione delle nuvole di punti e con Cloud Compare è stato possibile misurare angoli angoli di deep e deep direction sono gli angoli di orientamento delle discontinuità quindi l'orientamento e l'immersione sono state misurate le distanze la spazzatura tra la discontinuità sono state sono state misurate anche dei volumi di blocchi potenzialmente instabili e tutto questo è stato estratto e messo da parte e confrontato con quello che è stato il rilievo di campo Cloud Compare mette a disposizione alcuni tool alcuni plugin che sono molto interessanti uno in particolare si chiama Compass e fa una sorta di simulazione proprio di una bussola del geologo lasciandoti anche traccia in una parte dedicata dell'area di lavoro di tutte quelle che sono le informazioni che interroghi sulla nuvola di punti quindi oltre che funzionare come bussola funziona anche un po' come tacuino del geologo dove il geologo tipicamente si annota in campo tutto quello che rileva l'altro software che abbiamo utilizzato che Adriana ha utilizzato è un software che si chiama RockScan ed è un software proprietario non è un software commerciale è un software che è stato sviluppato nell'università di Parma è stato utilizzato dal Politecnico di Torino è un software che lavora in maniera secondo me interessante e dà degli ottimi risultati su quello ho potuto constatare che veramente i risultati sono stati molto molto buoni praticamente RockScan cosa fa? prende la mesh tridimensionale quindi lui lavora su una superficie va a un passo successivo rispetto a Cloud Compare che lavora sulla nuvola di punti RockScan prende la mesh quindi lui importa una mesh un STL quindi il classico file che viene utilizzato anche per la stampa tridimensionale prende le fotografie in realtà prende poche fotografie una, due, tre, quattro fotografie quelle che sono rappresentative della zona che si vuole studiare estrae dal software di fotogrammetria le caratteristiche quindi la posizione del centro di presa i vari parametri di calibrazione delle immagini matcha l'immagine con il modello tridimensionale e quello che l'utente vede è la fotografia in 2D in realtà sotto quella fotografia il software sta facendo lavorare il modello tridimensionale e l'utente cosa deve fare deve sostanzialmente cliccare o comunque indagare quello che vede nelle immagini e quello che gli verrà restituiti in output da parte del software sono le informazioni che il software prende dal modello tridimensionale che ci sta sotto e su cui ha appiccicato quelle immagini non è proprio come lavorare con un modello 3D texturizzato quindi non stiamo parlando di una texture che viene appiccicata ad un modello 3D si tratta di un'immagine 2D che rimane nella visualizzazione di un'immagine 2D ma al di sotto ha la possibilità di andare a essere una sorta di proiezione sul modello 3D che è sottostante in questo modo l'utente ha il limite di poter indagare soltanto quello che vede in quell'immagine e un'immagine 2D sai che non ti permette di vedere delle parti che sono eventualmente nascoste o ti permette di vedere male delle cose che un modello 3D ti permette di vedere molto meglio ma il vantaggio è che puoi utilizzare delle altre immagini per metterti in una vista per metterti in un punto di vista un punto di osservazione privilegiato per delle aree per delle zone particolari il vantaggio è che o meglio la cosa che abbiamo visto è che Rockscan si è comportato in maniera molto molto interessante sia per quanto riguarda i valori di Deep e Deep Direction sia per quanto riguarda la spaziatura tra le discontinuità ora sulla spaziatura tra le discontinuità Cloud Comperse ha comportato molto bene e in effetti dal momento in cui i modelli tridimensionali sono già referenziati orientati correttamente scalati il dato che viene restituito in output su una distanza è un dato corretto a meno dell'accuratezza del modello restituito sulla giacitura dei piani c'è un po' più di gioco quindi non è per niente banale tirare fuori un angolo considerando gli scarti che ci sono sia nell'interpretazione del dato da parte del geologo in campo sia per quanto riguarda l'output del modello considerando anche il fatto che il modello spesso ha delle informazioni che sono a volte tante a volte sono molto molto specifiche e quindi non è detto che quando tu fai click in un punto tu prenda proprio il punto corrispondente al piano che avrebbe considerato il geologo in campo tant'è che una delle operazioni che ha fatto Adriana durante il suo lavoro è stata anche quella di cercare di trattare il più possibile i modelli tridimensionali semplificandoli in alcuni casi o comunque elaborandoli in modo tale che fosse un dato robusto su cui fare delle analisi delle osservazioni attendibili comunque alla fine di questo processo che è stato un processo lungo non è stato un processo breve anche perché si è cercato di capire quale fosse la strada migliore per il trattamento del dato tridimensionale al fine dell'interrogazione al fine dell'estrazione delle caratteristiche geomorfologiche quello che è fatto è stato fatto è stato fatto un confronto su stereogrammi allora gli stereogrammi sono delle particolari proiezioni sono le proiezioni stereografiche che in meccanica delle rocce si usano tantissimo dentro cui ci si mettono tutti i risultati dei dati che vengono tirati fuori dai modelli interrogati e i dati tirati fuori dal rilevo di campo ora non entro nel dettaglio degli stereogrammi per due motivi uno perché ci vorrebbe un po' di tempo per spiegarti cos'è lo stereogramma ci sono dei libri che praticamente parlano dello stereogramma delle proiezioni stereografiche per la geomeccanica e sono un bel po' di pagine due perché come ti dicevo in apertura non è che sia molto ferrato su questa parte sto a leggere uno stereogramma ma forse spiegartelo rischierei di dirti come si dice da me delle belinate e quindi è meglio che ti lascio con questo sospeso dicendo che sono stati confrontanti gli stereogrammi e sono stati analizzati i risultati e quello che è venuto fuori è stato che i modelli tridimensionali hanno dato una buona rispondenza tra il dato estratto e il dato interrogato confrontandolo con il dato rilevato in campo direttamente dall'analisi classica del geologo che ha fatto rilievo da contatto maggiore era il dettaglio del modello tridimensionale e migliore era la corrispondenza di questi dati quindi la linea l'ottimo sarebbe stato utilizzare un modello che ovunque aveva il grado di dettaglio del modello generato da fotografie scattate da una camera full frame con un obiettivo da 35 mm è chiaro che sarebbe stato impensabile fare un rilievo di questo tipo su tutta la cava scattando fotografie a 5 metri di distanza perché sarebbero risultate io credo decine di migliaia di fotografie che sarebbero state poi ingestibili e intrattabili all'interno del software Structure from Motion però la linea di principio è questa è chiaramente maggiore è il dettaglio del modello e migliore sono i dati che tutti li fuori è chiaro che il modello deve essere robusto da un punto di vista topografico dell'orientamento e quindi entra tanto anche la parte del supporto topografico e dell'appoggio topografico che si fa nella fotogrammetria quindi devono esserci tanti punti di appoggio tanti gcp distribuiti bene misurati con una buona accurate con una buona precisione e devono esserci anche dei buoni tanti punti di controllo per verificare che il dato sia buono tutto questo concorre a creare un modello tridimensionale che sia il più robusto il più completo possibile e che effettivamente permette di estrarre delle caratteristiche delle informazioni delle misure di angoli delle misure di distanze che sono molto 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 corrispondenti con quello che è estraibile direttamente in campo e allora al termine di questo di questo lavoro io mi sono fatto una riflessione il lavoro di tesi il lavoro che ha fatto Adriana sulla sua tesi è finito nell'analisi dei risultati in realtà ha comportato anche uno studio di un'analisi di stabilità di volumi potenzialmente instabili con alcuni metodi di calcolo delle potenzialità delle possibili di instabilità quindi il crollo di ammassi rocciosi non te ne parlo in questa in questa sede però oltre questa parte oltre allo studio di stabilità il lavoro il lavoro dei tesi di Adriana si è concluso però a me poi dopo è venuta una riflessione una riflessione che ho portato anche durante il che ho proposto durante il mio speech al master e che è legata a una cosa di cui in realtà abbiamo anche già parlato abbiamo già parlato ne abbiamo parlato con Michele Camin mi ricordo una puntata nel podcast nello specifico del suo lavoro di geologo è un geologo verticale lui fa proprio questo lavoro di mestiere la mia riflessione è questa è che in realtà è una domanda quindi visto che le nuvole di punti sono i modelli tridimensionali sono così belli sono così bravi sono così buoni per tirare fuori delle informazioni che altrimenti dovrei andare fisicamente in campo per rilevare posso evitare di andare in campo posso evitare di uscire fuori col mio zaino con i miei scarponi e di andare anche in situazioni un po' più rischiose a misurare qualcosa sulla roccia toccando fisicamente la roccia posso evitarmi tutta questa parte quindi si può evitare il rilevo di campo visto che ci sono questi strumenti il rilevo di contatto visto che ci sono questi strumenti che ci supportano così bene la mia risposta e la risposta che mi sono dato è una risposta già condivisa con altri è no non si può evitare bisogna andarci sarebbe follia non andare a fare un'analisi di campo un rilevo di campo a vedere con i propri occhi la situazione in un'area in un ammasso roccioso in un'area potenzialmente instabile estendo questo campo non soltanto alla roccia ma anche al dissesto idrogeologico in generale ai dissesti di versante di tipo franoso alle colate di detrito quindi agli studi sui bacini montani sarebbe folle non andarci è necessario andarci è necessario fare dell'attività di campo perché quando un tecnico un professionista va in campo vede con i propri occhi il problema lo contestualizza mette l'ammassoroccioso in un macro contesto dove si inserisce accede a un database di informazioni che provengono da tutti i lavori le esperienze pregresse che ha fatto e che lo possono mettere in relazione con quel tipo di problema che sta guardando con quegli occhi giudica un problema sulla base della propria esperienza e della propria sensibilità insomma non è possibile non andare in campo non è possibile mettere mano alla roccia non è possibile prendere toccare con mano quello che devi studiare quello di cui poi devi andare a relazionare e da cui devi tirare fuori dei numeri o qualcosa che poi darei a qualcun altro che farà un progetto non puoi non andarci quindi il rilievo di campo non si può evitare anche se abbiamo delle nuvole di punti abbiamo dei dati così belli da poter guardare fisicamente guardare comodamente seduti al computer però una nuvola di punti tridimensionale è un elemento che ti dà un sacco di informazioni tantissime informazioni se la nuvola di punti è correttamente già referenziata orientata tutti i punti hanno una terna di coordinate x y z che li caratterizza tutti i punti sono indagabili puoi conoscere le coordinate di ciascun punto puoi estrarre una sezione dalla nuvola di punti puoi vedere il problema nella sua complessità puoi vedere un ammasso roccioso nella sua complessità che è molto diverso che vedere un ammasso roccioso quando ti cali in parete quando ti fai una calata in corda vedi il problema alla distanza di un metro vedi lo specifico non vedi il globale una nuvola di punti ti permette di sapere un modello tridimensionale ti permette di sapere che cosa andrei a vedere in campo ancora prima di metterti gli scarponi di preparare lo zaino e ti permette di avere accesso dopo che sei tornato a una grandissima fonte di informazioni da cui puoi andare a cercare un confronto con quello che hai rilevato a cercare una conferma puoi dare la nuvola di punti puoi far condividere la nuvola di punti un modello 3D con qualcun altro un qualche tuo collega che non è venuto in campo con te ma in questo modo ha la possibilità di accedere virtualmente a un dato che è molto importante molto robusto molto valido soprattutto perché le informazioni che puoi tirare fuori sono simili sono molto congruenti con quelle che tira resti fuori andando punto per punto di tutta l'area che hai rilevato con la tua bussola e col tuo taccuino quindi anche se le nuvole di punti fanno paura anche se i modelli tridimensionali ci fanno ogni tanto storcere un po' la bocca o ce li fanno un po' allontanare perché abbiamo paura che i nostri computer si impallino in realtà hanno dentro una valanga di informazioni che sono molto utili e quindi sebbene il fattore umano non possa essere in nessun modo e mi viene da dire anche per fortuna sostituito da un algoritmo da un plug-in o da un dato tridimensionale che vediamo al computer queste informazioni però lo possono supportare lo possono supportare e gli possono dare una grande mano per fare un lavoro più efficiente per fare un lavoro ancora migliore per fare un lavoro che poi ha come risultato quello di caratterizzare una situazione di pericolo e eventualmente valutare la necessità di un intervento e ancora successivamente progettare e realizzare un intervento di difesa di consolidamento di tutto quello che può essere la mitigazione del rischio idrogeologico in questo caso però mi viene da dire che possiamo estenderlo davvero a tanti altri casi in cui lavorano i tecnici lavorano i geologi lavorano ingegneri lavorano geometri insomma in tantissimi casi un datore dimensionale può supportare il lavoro dell'uomo che però non può essere ancora sostituito e questa è stata un po' la mia la storia che ho raccontato durante la seconda delle due giornate del primo congresso dell'associazione nazionale master a dire la verità sono stato più sintetico e lì sono stato bravo cerco mi sono stupito anche di essere riuscito a stare nei tempi avevamo a disposizione 30 minuti ho concluso il mio speech in 25 minuti e sono stato bravo qui nel podcast sai che mi lascia un po' andare ci ho provato tante volte a cercare di stringere le puntate del podcast non ce l'ho mai fatta quindi alla fine è una battaglia persa ma in realtà non è neanche non è mai stata neanche una battaglia è una cosa che ho deciso di lasciare andare in questo modo quindi le mie puntate lo sai sono abbastanza lunghe e insomma ci riverso dentro un po' della mia esperienza un po' del mio entusiasmo un po' della mia passione che riguarda il mio lavoro e nel caso specifico che ha riguardato questo caso particolare questo rilevo fotogrammetrico è stato davvero bello lavorare in campo quei 4 giorni insieme a Adriano e i ragazzi che erano con noi è stato bello poi elaborare i dati è stato anche molto interessante seguire tutto il processo di elaborazione o meglio di interrogazione dei dati per fare il confronto con quello che abbiamo rilevato in campo è stato molto 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 bello nel canale telegram di 3Dmetrica metto a disposizione il pdf dello speech che ho condotto quindi ci sono le diapositive se vuoi puoi seguire puoi ascoltare questo podcast con le diapositive che scorrono sono poche e sono fondamentalmente delle immagini sono utilizzate le ho utilizzate come traccia però te le metto a disposizione nel canale telegram il canale telegram di 3Dmetrica è un posto dove condivido quotidianamente un po' di aggiornamenti dietro le quinte e quello che faccio durante le mie giornate sia in campo che in ufficio nell'elaborazione dei dati è una piccola comunità che sta crescendo siamo più di 500 ne sono molto contento ed è un posto a cui tengo molto se vuoi comunicare con me puoi sempre utilizzare telegram telegram è un'app di messaggistica che mi piace molto ed è il mio canale preferenziale per comunicare con tu che ascolti o le persone che ruotano intorno alla piccola community di 3Dmetrica il mio contatto diretto su telegram è telegram.me slash paolo corradeghini mentre il canale telegram che non ti ho detto è telegram.me slash 3Dmetrica scritto in lettere se vuoi metterti in contatto con me in altri modi se non utilizzi telegram ti consiglio di installarlo e di utilizzarlo ma se non lo utilizzi all'indirizzo web www.3dmetrica.it nella sezione info trovi tutti i modi per metterti tutti gli altri modi per metterti in comunicazione con me c'è la mia email i miei profili social network e anche i canali social network di 3Dmetrica su 3Dmetrica.it trovi anche la possibilità di diventare hai anche la possibilità di accedere alla pagina Patreon per il finanziamento a 3Dmetrica puoi se vuoi è facoltativo assolutamente libero diventare un produttore un finanziatore di 3Dmetrica i finanziatori di 3Dmetrica sono persone che hanno scelto di supportare il progetto di 3Dmetrica con il loro contributo economico accedendo alla campagna una sorta di campagna di tra virgolette crowdfunding che ho aperto sulla piattaforma Patreon trovi tutte le informazioni su 3Dmetrica.it oppure puoi andare a patreon.com slash 3Dmetrica e come ogni puntata io ci tengo tantissimo a ringraziare i finanziatori di 3Dmetrica che puntata dopo puntata stanno crescendo e questa cosa mi riempie davvero tantissimo di gioia e quindi ringrazio tantissimo domenio Icargese Marco Rizzetto Luca Lucchetta Fabrizio Comiotto Luigi Giovanni Gennari Stefano Chiappini Alessandro Paganelli Gianpaolo Beretta Gianluca Palmieri Massimo Ratto Cavagnaro Martina Parini Alessandro Bruscagin Loris Bergamini Marzio Marinelli Daniele Pesci Mario Puppo Gianluca Pavone Cristian Giardelli Tiziano Cosso Massimiliano Piras Walter Nancioni Gianpaolo Grosso Edoardo Filippini Matteo Marzari Luca Dacanale Federico Debetto Mauro Perega Salvatore Onorato Luca Cavagniero Andrea Muscatelli Michele Girardi Alessandro Vernassa Gianpaolo Buonini Martina Francescangeli Mario Munda Marco Massignan Antonio De Angelis Daniele Madella e Roberto Innocenti grazie del vostro supporto ragazzi grazie di cuore e io ringrazio anche te per essere arrivato per essere arrivata alla fine di questa puntata del podcast di 3D Metrica ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradighini grazie a tutti